Partita con la sua Fiat 500 Pino Pirozzolo, mentre si prepara il numero 84. Alberto De Gregorio della New Generation Racing. Partita con la sua Fiat 500 Pino Pirozzolo, mentre si prepara il numero 85. Partita con la sua Fiat 500 Pino Pirozzolo, mentre si prepara il numero 85. Partita con la sua Fiat 500 Pino Pirozzolo, mentre si prepara il numero 86. Partita con la sua Fiat 500 Pino Pirozzolo, mentre si prepara il numero 85. Sulla linea di partenza c'era Alberto De Gregorio, New Generation, invece a 106, anche lui un under 23. Sulla linea di partenza. Sulla linea di partenza. Sulla linea di partenza. Sulla linea di partenza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.